10 passi per il successo Sicuramente ti stai chiedendo come e quando è possibile iniziare a lavorare e guadagnare. La risposta è più semplice di quanto si pensi. Comincia adesso, in questo momento. Non sprecare il tuo tempo. Solo 10 passi ti separano dal successo. Segui i nostri consigli e valorizzi i tuoi punti di forza, così potrai realizzare i tuoi sogni. Passo 1. Apri il campionario. Prima di tutto c'è il tuo starter kit. Aprilo. Noterai che oltre ai campioncini di profumi, che sono il tuo strumento di lavoro, ci sono anche il piano marketing, i cataloghi ed un DVD. Studia attentamente i prospetti per capire qual è l'offerta di FM. Ciò che imparerai da questo primo approccio ai cataloghi e al piano marketing sarà fondamentale per il tuo lavoro. Ora guarda i campioncini di profumi nel campionario. Ogni fiano ha un colore specifico. Rosso indica che il campione contiene il profumo della collezione classica da donna. Blu indica che è un classico maschile. Il colore oro è il profumo lusso donna. L'argento è il profumo lusso uomo. Questa suddivisione dei campioncini ti aiuterà a scegliere rapidamente i profumi da mostrare, dimostrando di essere un vero intenditore di profumo. Passo 2. Conosci la società. Ora guarda il video nel DVD, che è incluso nel campionario. Troverai un corso di formazione aziendale che ti aiuterà a capire il valore del tuo lavoro e da conoscere meglio FM Group. Potrai scoprire come è iniziata l'avventura dei prodotti FM Group. Fare la conoscenza di alcuni leader che hanno raggiunto un successo incredibile nell'MLM. C'è anche un piano marketing spiegato chiaramente che ti permetterà di capire come sviluppare il tuo business. Passo 3. Ricorda il tuo codice distributore. Con l'adesione FM Group hai ricevuto un account distributore. Guarda bene il codice incaricato che si trova nell'angolo in alto a destra della domanda di collaborazione. È il tuo codice di identificazione con il quale puoi effettuare l'ordine dei prodotti e sviluppare una tua propria struttura. È meglio averlo sempre con te, in modo da risparmiare tempo e denaro. Per esempio, salvalo nella rubrica del tuo cellulare. Passo 4. Vai su www.fmworld.com Preziosa fonte di informazioni sarà anche il sito internet aziendale www.fmworld.com dove troverai link ai siti ufficiali delle filiali FM Group di tuo interesse. Sul sito delle singole filiali puoi trovare informazioni sui prodotti, gli eventi aziendali, le promozioni di programmi motivazionali. Per utilizzare meglio il sito hai bisogno di una password personale. Clicca su Recupera Password e inserisci la tua email o il tuo codice incaricato. La password verrà generata in automatico ed inviata direttamente all'email indicata. Passo 5. File Login Vai sul sito della tua filiale e accedi alla tua area personale, utilizzando gli username, il tuo codice incaricato, e la password. Una volta effettuato l'accesso, avrai la possibilità di consultare le news sui prodotti e gli eventi di FM Group. In più, accedendo al tuo albero attuale, avrai la possibilità di monitorare la crescita della tua struttura ed il fatturato, gestendo il tutto in modo più corretto. Passo 6. Effetto il tuo primo ordine Ora, fai il tuo primo ordine. Per prima cosa, inserisci il tuo codice incaricato e la password. Poi, inserisci il codice del prodotto come da catalogo. La spedizione arriverà nel luogo designato, consegnato dai corrieri con cui lavora la tua filiale di competenza. Gli ordini possono essere effettuati tramite telefono, fax, e-mail, online. I recapiti telefonici relativi indirizzi e-mail sono disponibili sul sito internet della tua filiale. Per evitare i costi di spedizione, prendi visione dei termini e delle condizioni validi presso la tua filiale. Passo 7. Studia il piano marketing Ora, leggi il piano marketing. Potrai imparare come sono calcolate le provvigioni in base ai punti accumulati con un ordine. Ci sono esempi di strutture, il volume delle loro vendite e le loro provvigioni maturate. Questo ti aiuterà a realizzare i tuoi obiettivi. Seguendo i suggerimenti del piano marketing e partecipando alla formazione, sarà più facile migliorare le tue capacità e incrementare la tua struttura. Passo 8. Partecipa ai programmi motivazionali È importante imporsi degli obiettivi che insieme a noi potrai raggiungere. Scrivi oggi la lista dei tuoi obiettivi e tienila sempre con te, in modo da poter rileggere ogni giorno per vedere se essi sono stati realizzati con successo. Confronta i tuoi obiettivi non solo con il piano marketing, ma anche con i programmi motivazionali che troverai sul sito internet aziendale. Questo ti aiuterà a fissare obiettivi realistici a lungo e a breve termine. Passo 9. Fai una lista di contatti Ora comincia a lavorare seriamente. Fai una lista di persone che puoi contattare nei primi giorni del tuo lavoro. Pensa quali sono i loro punti di forza. Questo ti aiuterà nel lavoro sistematico e nella struttura. Ora mettiti in gioco, costruisci il tuo programma e quotidianamente aggiungi nuovi nomi alla lista di contatti. Passo 10. Invita alla collaborazione Se vorrai sponsorizzare qualcuno da inserire nella tua struttura, non hai bisogno di ulteriori conoscenze o documenti. È sufficiente che ripeti gli stessi passi che il tuo sponsor ha fatto nel momento della tua iscrizione. L'unica differenza è che ora sul contratto, nello spazio in fondo dedicato allo sponsor, dovrai inserire il tuo nome e cognome ed il tuo codice incaricato FM. Mentre il candidato dovrà inserire i propri dati, come l'avevi fatto tu il giorno della tua iscrizione. Ed ora esci di casa e provaci anche tu. I tuoi sogni sono un passo da te. I tuoi sogni sono un passo da te.